da mezzanotte l'orario invernale dei treni il rompone frecciarossa per milano roma ma nessun diretto va a venezia problemi anche per la linea tirrenica adriatica ancora grane per la tormentata autostrada asti cuneo assemblea dei sindaci che contestano il prezzo del biglietto la lunghezza dei tempi 23 persone arrestate per spaccio detenzione di droga una nuova operazione conferma alessandria crocevia dei percorsi dello spaccio la martini e rossi e fratelli gancia escono dal consorzio dell'asti quali prospettive per il futuro del settore ci si interroga su come rilanciare i vini piemontesi buongiorno nuova edizione del telegiornale del piemonte dunque da mezzanotte scatta il nuovo orario ferroviario con la novità dei treni frecciarossa e dell'alta velocità una rivoluzione nuove opportunità ma ci sono anche tagli pesanti sulle altre linee non si va più a venezia trieste senza cambi a milano i problemi anche per le tappe intermedie della linea adriatica per bari e tirrenica per liguria e toscana per provare i frecciarossa 300 all'ora trenitalia domani e solo domani offre due tariffe stracciate fino a esaurimento posti 4 euro e 10 sul torino roma delle 7 40 e su roma torino delle 8 e 40 35 buona giornata a 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 Grazie a tutti